Quell'uomo originalissimo che era il vecchio dottor Heidegger invitò una volta nel suo studio quattro venerabili amici, tre signori dalla barba bianca, il signor Medburn, il colonnello Kailigrev, il signor Pasconi e una gentildonna vizzita che si chiamava la vedova Witcherly. Erano quattro vecchi melanconici che nella vita avevano avuto la sorte avversa e la cui maggior disgrazia era di non trovarsi già da molto tempo nella tomba. Nella sua verde età il signor Medburn era stato un prospero commerciante, ma aveva perduto tutto il suo in una arrischiata speculazione. Il colonnello Kailigrev aveva sciupato gli anni migliori, la salute e le ricchezze, in caccia di riprovevoli piaceri che gli avevano apportato una turba di sofferenze, come la gotta e molti altri tormenti, fisici e morali. Il signor Pasconi era un uomo politico rovinato, persona di cattiva reputazione, almeno fino a quando il tempo non l'aveva fatto dimenticare dalla generazione presente, rendendolo oscuro invece che tristemente famoso. Quanto alla vedova Witcherly, la storia dice che era stata ai suoi tempi una grande bellezza, ma da molti anni viveva in profondo isolamento, a causa di certe voci scandalose che avevano mal prevenuto contro di lei la buona società del luogo. Fatto degno di menzione, tutti e tre quei vecchi gentiluomini, il signor Medburn, il colonnello Kailigrev e il signor Gosconi, avevano amato in gioventù la vecchia Witcherly e una volta erano stati persino sul punto di scannarsi a vicenda, per amor suo. Prima di continuare, accenerò che il dottor Heidegger e i suoi quattro invitati avevano fama di uscire qualche volta di senno, come accade non di rado ai vecchi, quando sono angustiati da noie presenti o da penosi ricordi. I miei cari vecchi amici, disse il dottor Heidegger facendo loro cenno di sedersi, avrei bisogno del vostro aiuto per uno di quei piccoli esperimenti di cui mi diletto qui nel mio studio. Stando a tutte le voci che correvano, lo studio del dottor Heidegger doveva essere un luogo molto strano davvero. Festoni di ragnatele ornavano la stanza antiquata e semibuia, cosparsa di polvere annosa. Alle pareti c'erano diversi scaffali di quercia, i cui piani inferiori erano pieni di giganteschi in foglio e di in quarto a grosse lettere gotiche, e i superiori di piccoli volumi in dodicesimo, rilegati in pergamena. Sullo scaffale centrale si vedeva un busto in bronzo di Ippocrate, col quale il dottor Heidegger, secondo quanto affermavano alcuni, era solito consultarsi in tutti i casi difficili della sua professione. Nell'angolo più buio della stanza c'era un armadio di quercia alto e stretto, che dallo sportello socchiuso lasciava intravedere uno scheletro. Fra due scaffali stava appena una specchiera, il cui cristallo alto e impolverato era racchiuso in una cornice d'oro sbiadito. Fra le tante meraviglie che circolavano sul conto dello specchio, si favoleggiava che vi dimorassero gli spiriti di tutti i defunti pazienti del dottore, che lo fissavano in viso ogni qualvolta egli guardava in quella direzione. Il lato opposto della stanza era ornato dal ritratto di una giovane donna, avvolta in una scolorita magnificenza di seta, rasi e broccati, ed al viso sbiadito quanto gli abiti. Più di mezzo secolo prima, il dottor Heidegger era stato sul punto di sposare quella giovane donna, ma essendo leggermente indisposta, e l'aveva ingerito una medicina prescritta dal suo innamorato ed era morta alla vigilia delle nozze. Resta ancora da parlare della maggiore curiosità di quello studio. Un grosso volume in folio, rilegato in pelle nera e chiuso da massicci fermagli d'argento. Non portava alcuna iscrizione sul dorso e nessuno avrebbe saputo dirne il titolo, ma era ben noto che si trattava di un libro di magia. Una volta la cameriera lo aveva sollevato, per togliere la polvere che lo ricopriva, si era udito nell'armadio il rumore secco delle ossa dello scheletro. La giovane donna del ritratto aveva messo un piede a terra, e i volti spettrali si erano affacciati allo specchio, mentre la testa di bronzo di Ippocrate, aggrottando le sopracciglia, aveva esclamato «Fermatevi!» Tale era lo studio del dottor Heidegger. In quel pompenizzo d'estate in cui si svolsero i fatti che raccontiamo, vi era, al centro della stanza, un piccolo tavolo rotondo, nero come l'ebano, su cui posava un vaso di cristallo, molato, di bella forma e artisticamente lavorato. Il sole che entrava dalla finestra, fra i pesanti festoni di due tende di Damasco sbiadito, andava a cadere direttamente sul vaso e rifletteva una pallida luce sui volti cinerei dei cinque vecchi, riuniti intorno al tavolino, su cui erano posate anche quattro coppe di spumante. «I miei cari e vecchi amici!» ripetè il dottor Heidegger. «Posso contare sul vostro aiuto per eseguire un esperimento molto curioso?» Il dottor Heidegger era un vecchio assai stravagante, le cui fantasie avevano dato origine a mille storie incredibili. Devo dire, a mia vergogna, che alcune di quelle favole si possono far risalire alla mia veridica persona, e se qualche passaggio di questo racconto dovesse risvegliare l'incredulità del lettore, dovrò rassegnarmi a portare il marchio di spacciatore di frottole. Quando i quattro ospiti del dottore lo udirono parlare dell'esperimento che gli intendeva eseguire, essi si immaginarono di assistere tutt'al più all'uccisione di un topo sotto la campana pneumatica, o all'esame microscopico di una ragnatela o a qualche altra sciocchezza del genere, con cui il dottore aveva l'abitudine di tormentare gli amici più intimi. Ma senza aspettare risposta, il dottor Heidegger traversò zoppicando la stanza, e ritornò verso il tavolino col grosso in foglio rilegato in pelle nera, che era, a dire di tutti, un libro di magia. Aprì fermagli d'argento e sfogliò il volume dalle cui pagine, coperte di lettere gotiche, trasse una rosa, o meglio, quel che un tempo era stata una rosa, ma le cui foglie verdi e i cui petali rossi avevano ora assunto un colore quasi marrone, tanto che il vecchio fiore sembrava sul punto di sbriciolarsi in polvere. Fra le dita del medico. Questa rosa, disse il dottor Heidegger con un sospiro, questo stesso fiore che vedete appassito e secco, sbocciò or sono cinquantacinque anni. Mi fu data da Sylvia Ward, di cui vedete laggiù il ritratto, e contavo di portarlo all'occhiello il giorno delle nostre nozze. Per cinquantacinque anni l'ho custodito gelosamente fra i fogli di questo vecchio volume. Ora, credete voi possibile che questa rosa di mezzo secolo possa mai rifiorire? Assurdo, esclamò la vedova Whitcherly con un moto petulante del capo. Sarebbe come chiedere se possa rifiorire il volto grinzoso di una vecchia. Guardate, rispose il dottor Heidegger, scoprì il vaso e nell'acqua che esso conteneva gettò la rosa appassita. Dapprima il fiore galleggiò lieve alla superficie del liquido e parve non assorbirlo affatto. Ma ben presto si cominciò a notare uno strano cambiamento. I petali schiacciati e secchi presero ad animarsi e assunsero una tinta rossa sempre più viva, quasi il fiore si riavesse da un sonno come di morte. Il campo sottile e i ramoscelli con le foglie rinverdirono, e la rosa di mezzo secolo apparve fresca quale Sylvia Ward l'aveva donata al suo innamorato. Non era neppure del tutto sbocciata. Alcuni dei suoi delicati petali rossi si ripiegavano con modestia intorno all'umido grembo dove brillavano due o tre gocce di rugiada. «È certamente un'illusione assai graziosa», dissero gli amici del dottore, «ma lo dissero con una certa non curanza, perché avevano assistito a ben altri miracoli compiuti da un prestigiatore. Diteci come avete fatto, per piacere». «Avete mai sentito parlare della fontana della giovinezza?» chiese il dottor Heidegger. «Quella di cui due o tre secoli fa si mise in cerca l'avventuriero spagnolo Ponce de Leon». «Ma Ponce de Leon riuscì mai a trovarla?» si informò la vedova Witcherly. «No», dispose il dottore, «perché non la cercò mai nel luogo giusto». «Se sono stato ben informato, la famosa fontana della giovinezza si trova nella regione meridionale della penisola della Florida, non lontano dal lago Macaco. La sua sorgente è ombreggiata da numerose magnoli e giganti che, sebbene abbiano numerosi secoli di vita, si mantengono fresche come violette, per virtù di quell'acqua meravigliosa. Un conoscente, sapendo della mia curiosità per queste cose, mi ha mandato l'acqua che vedete in quel vaso. «Hm», fece il colonnello Kailigrev, che non credeva una parola del racconto, «e quale potrebbe essere l'effetto di quel liquido sul corpo umano? Lo giudicherete voi stesso, caro colonnello?» replicò il dottor Heidegger. «Vi invito tutti, miei rispettabili amici, a bere di questo liquido portentoso, quanto ne occorre per ridonarvi la freschezza della gioventù. Quanto a me, ho tanto penato a invecchiare che non provo nessun deciderio di ridiventare giovane. Col vostro permesso, dunque, mi limiterò ad osservare, do svolgersi dell'esperimento». Mentre parlava, il dottor Heidegger aveva riempito le quattro coppe di spumante con l'acqua della fontana della giovinezza. Era chiaro che quell'acqua conteneva un gas effervescente. Pollicine d'aria salivano di continuo dal fondo dei bicchieri e formavano alla superficie una spuma argentea. Poiché il liquido emanava un gradevole profumo, i quattro vecchi non dubitarono che possedesse le proprietà d'un cordiale. E sebbene molto scettici, sulla sua virtù di ringiovanire, si mostrarono disposti a trangugiarlo subito. Ma il dottor Heidegger li pregò di attendere un momento. Prima di bere, miei rispettabili e vecchi amici, egli disse, «Sarebbe bene che, ammaestrati dalle esperienze di tutta una vita, teneste presente alcune norme generali che vi servano di guida nel passare nuovamente per i pericoli della giovinezza. Pensate quanto sarebbe colpevole e vergognoso se nonostante i particolari vantaggi di cui godete non dovreste divenire modelli di virtù e di saggezza per tutti i giovani nostri contemporanei». I quattro venerabili amici del dottore non risposero, limitandosi soltanto ad una risatina debole e tremula. Tanto appariva loro ridicola l'idea di potersi sviare di nuovo, ben sapendo ormai quanto da vicino il pentimento segua i passi dell'errore. «Bevete dunque», disse il dottore con un inchino, «vi rallegro di aver scelto così bene i soggetti del mio esperimento». Con mani tremanti essi portarono i bicchiari alle labbra. Se quel liquido possedeva realmente le virtù attribuitegli dal dottor Heidegger, non sarebbe stato possibile offrirlo a quattro esseri umani che ne avessero più doloroso bisogno. Si sarebbe detto a vederli che non avessero mai conosciuto la gioventù e il piacere, ma generati da una natura ormai vecchia, fossero sempre stati quelle miserabili creature grigie, decrepite e inaridite che sedevano curve intorno al tavolo del dottore, senza più nell'anima e nel corpo tanta vita da animarsi nemmeno alla prospettiva di tornare giovani ancora. Vuotarono i bicchiari e riposarono di nuovo sul tavolo. In verità, nel loro aspetto si notò quasi subito un miglioramento, non dissimile di quello che avrebbe potuto produrre un bicchiere di vino generoso e un improvviso scintillio di vivace gaiezza illuminò al tempo stesso i loro volti. Un sano colorito roseo si diffuse sulle loro guance al posto del colore cinereo che li aveva resi tanto simili ai cadaveri. Si guardarono ed ebbero l'impressione vaga che qualche magico potere avesse cominciato veramente a cancellare le tristi e profonde iscrizioni che da lunghi anni padre tempo aveva inciso sui loro volti. La vedova Witcherly si aggiustò il cappellino. Si sentiva quasi ridiventar donna. Dateci ancora di quest'acqua meravigliosa gridarono avidamente Siamo più giovani ma siamo ancora troppo vecchi Presto datecene ancora Pazienza, pazienza disse il dottor Heidegger che seguiva l'esperimento con filosofica freddezza Vi c'è voluto molto tempo per invecchiare Potreste davvero accontentarvi di ringiovanire in mezz'ora Ma l'acqua è a vostra disposizione Riempì di nuovo i bicchieri di quelli cuore di giovinezza e nel vaso ne rimase tanto da ridonare a tutti i vecchi della città l'età dei loro nipotini Mentre ancora le bollicine spumeggiavano sull'orlo i quattro ospiti del dottore afferrarono i bicchieri e ne trangugiarono il contenuto tutto ad un fiato Era un'illusione La bevanda scendeva ancora per la gola e già sembrava aver operato un mutamento in tutto il loro essere I loro occhi si erano fatti più chiari e luminosi e fra le ciocche d'argento si incupiva un'ombra scura Intorno alla tavola erano ora seduti tre signori di mezza età e una donna che solo da poco aveva oltrepassato la prima giovinezza Mia cara siete incantevole esgramò il colonnello Kailigrev che aveva tenuto gli occhi fissi sulla vedova mentre le ombre della vecchiaia svanivano dal suo volto come le tenebre di un'alba purpurea La bella vedova sapeva per antica esperienza che i complimenti del colonnello Kailigrev non sempre erano ispirati alla più stretta veridicità Perciò balzò in piedi e corse allo specchio col timore di vedervi ancora riflesso il brutto volto di una vecchia Nel frattempo i tre uomini si comportavano in maniera Nel frattempo i tre uomini si comportavano in maniera da dimostrare che l'acqua della fontana della giovinezza possedeva proprietà inebrianti a meno che in verità la loro gaiezza non fosse che una leggera vertigine dovuta all'improvviso liberarsi dal peso degli anni La mente del signor Guascogne sembrava vagare su argomenti politici ma sarebbe stato difficile stabilire se alludeva al passato al presente o al futuro poiché da 50 anni in qua sono in voga le stesse idee e le stesse frasi Ora snocciolava a piena voce massime sul patriottismo sulla gloria nazionale e sui diritti del popolo Ora mormorava qualche pericoloso argomento in un bisbiglio astuto e ambiguo con tanta cautela che perfino la sua coscienza stentava a capirne il segreto Ora infine riprendeva a parlare con accenti misurati e con tono profondamente deferente come se un orecchio regale ascoltasse i suoi eleganti periodi Nel frattempo il colonnello Kalligref canterellava un'allegra arietta di bevitori accompagnando il ritornello col tintinnio del bicchiere e seguendo intanto con lo sguardo la graziosa figura della vedova Witcherly Dall'altro lato del tavolo il signor Madburn era assorto in un calcolo di dollari e cent con cui era stranamente connesso un progetto per rifornire di ghiaccio le indie orientali aggiogando un tiro di balene agli iceberg polari quanto alla vedova Witcherly se ne stava davanti allo specchio facendo inchini e sorrisetti alla propria immagine e salutandola come se fosse l'amica più cara del mondo avvicinò ancora di più il volto allo specchio per accertarsi se quella ben nota ruga o zampa di gallina fosse davvero scomparsa guardò se la neve sui suoi capelli si fosse disciolta del tutto ed ella potesse togliersi tranquillamente la venerabile cuffietta infine voltandosi con vivacità si avviò verso la tavola quasi a passo di danza mio car vecchio dottore esclamò offritemi un altro bicchiere per favore ma certo cara signora certo replicò il medico compiacente guardate ho già riempito i bicchieri e davvero le quattro coppe erano pronte piene fino all'orlo di quell'acqua meravigliosa la cui spuma delicata ed effervescente alla superficie somigliava al tremulo scintillio dei brillanti il tramonto era ormai prossimo e la stanza ancor più buia ma una luce tenue quasi lunare emanava dal vaso posandosi sui quattro ospiti e sulla venerabile figura del dottore egli sedeva in una poltrona di quercia dai complicati intagli e dall'alto schienale e la grigia dignità della sua persona ben sarebbe convenuta all'immagine di quello stesso padre tempo il cui potere non era mai stato conteso da nessuno se non da quella fortunata comitiva pur mentre bevevano per la terza volta l'acqua della fontana della giovinezza essi furono quasi spaventati spaventati dall'espressione del suo volto misterioso ma subito dopo l'impeto esilarante della nuova vita pulsò fulmineo nelle loro vene erano ormai nel fiore degli anni la vecchiaia col suo miserevole seguito di preoccupazioni dolori e malattie non era più che un brutto sogno da cui si erano con gioia risvegliati la freschezza dell'anima così presto perduta senza la quale le scene succedutesi nella vita non erano state che una galleria di quadri sbiaditi zettò di nuovo il suo incanto su tutto il loro avvenire si sentirono creature nuove in un universo nuovo siamo giovani siamo giovani gridarono con esultanza la gioventù come l'estrema vecchiezza aveva cancellato i tratti individuali fortemente segnati dell'età matura rendendo i quattro ospiti tutti simili tra loro erano un gruppo di allegri giovani quasi impazziti per l'esuberante giocondità dei loro anni il più strano effetto della loro allegria era una tendenza a prendersi gioco delle infermità e della decrepitezza di cui erano stati vittime fino a pochi momenti prima facevano grandi risa dei loro abiti all'antica delle giacche a campana e dei panciotti pendenti che indossavano i giovanotti della cuffietta e dell'abito antiquati che portava la fiorente fanciulla uno camminava zoppicando per la stanza come un vecchio gottoso un altro si metteva un paio d'occhiali a cavalcioni sul naso e fingeva di sprofondarsi nella lettura del libro di magia un terzo si sedeva in una poltrona cercando di imitare la venerabile dignità del dottor Heidegger poi si misero tutti a gridare allegramente e a saltare per la stanza la vedova Witcherly se si può chiamare vedova una damicella così fresca corse verso le poltrone del dottore con un'aria di maliziosa allegria sul volto roseo dottore mio caro vecchietto gridò alzatevi e danzate con me e i quattro giovani risero più che mai pensando alla buffa figura che avrebbe fatto il povero dottore e prego di scusarmi rispose tranquillamente il dottore sono vecchio e soffro di reumatismi per me il tempo di ballare è passato da un pezzo ma uno di questi allegri giovanotti sarà ben contento di avere una dama così graziosa lanzate con me Clara gridò il colonnello Caligrev no no le farò io da cavaliere intervenne il signor Guascogne mi promise la sua mano cinquant'anni fa esclamò il signor Madburn e si strinsero tutti intorno uno le afferrò le due mani in una stretta appassionata un altro le circondò la vita col braccio e il terzo affondò una mano fra i riccioli lucenti che si ammassavano sotto la cuffietta da vedova rossa affannata essa si dibatteva fra grida e risate soffiando il suo alito tiepido su ognuno dei loro volti a turno e cercando senza riuscirvi di liberarsi dalla loro triplice stretta non si vide mai un più vivace quadretto di rivalità giovanile con più magica bellezza per premio al vincitore eppure per uno strano inganno dovuto forse all'oscurità della stanza ai vecchi abiti che quei quattro indossavano ancora si racconta che l'alta specchiera rifletteva le immagini di tre nonnetti canuti e grinzosi in una ridicola contesa tra loro per l'ossuta bruttezza di una vecchia vizzita ma essi erano giovani lo provavano le loro brucianti passioni infiammati fino alla follia dalla civetteria della vedova fanciulla che non concedeva ne rifiutava del tutto i suoi favori i tre rivali cominciarono a scambiarsi occhiate minacciose senza abbandonare la bella preda si afferrarono ferocemente per la gola e nel dibattersi in qua e in là rovesciarono il tavolo mandando il vaso in mille pezzi la preziosa acqua della giovinezza si sparse sul pavimento in un rigagnolo luminoso e andò a bagnare le ali di una farfalla che invecchiata col declinare dell'estate si era posata in terra per morirvi l'insetto volò leggero per la stanza e si posò sulla testa canuta del dottor Heidegger via via signori su signora Witcherly devo proprio protestare contro questo baccano esclamò il dottore i quattro si fermarono subito e rabbrividirono ebbero quasi la sensazione che l'oscuro tempo li richiamasse dall'assoluta giovinezza giù giù nella fredda ecupavalle degli anni guardarono il vecchio dottor Heidegger che seduto nella sua poltrona intagliata stringeva fra le dita la sua rosa di mezzo secolo salvata tra i frammenti del vaso infranto al gesto della sua mano i quattro ospiti cassosi tornarono a sedersi tanto più docilmente perché il moto violento li aveva stancati nonostante tutta la loro giovinezza la rosa la rosa della mia povera silvia esclamò il dottor Heidegger tenendola nella luce delle nuvole illuminate dal tramonto sembra che appassisca di nuovo ed era proprio così sotto gli occhi di tutti che la guardavano la rosa continuò ad appassire finché divenne secca e fragile come nel primo momento in cui il dottore l'aveva gettata nel vaso il vecchio scosse le poche gocce d'acqua rimaste sui petali mi piace così non meno che nella sua rucciatosa freschezza osservò posando le labbra avvizzite sulla avvizzita rosa mentre parlava la farfalla posata sul suo capo bianco sbatté le ali e cadde sul pavimento i suoi invitati rabbrividirono una seconda volta uno strano freddo non avrebbero saputo dire se del corpo o dello spirito si insinuava lentamente in tutti loro si guardarono a vicenda e immaginarono che ogni fugace istante strappasse loro un'attrattiva lasciando al suo posto un solco profondo si ingannavano i mutamenti di un'intera vita si erano dunque ammassati in così breve spazio e ormai non erano essi che quattro vecchi seduti con il loro amico il dottor Heidegger siamo invecchiati di nuovo tanto presto esclamarono disperati così era l'acqua della giovinezza possedeva solo un potere ancora più effimero di quello del vino il delirio che si creava era già sbollito proprio così erano di nuovo vecchi con un gesto impulsivo che dimostrava in lei pur sempre la donna la vedova si coprì il volto con le mani scarne e desiderò che il coperchio della vara lo celasse poiché non poteva mai più essere bello si amici miei siete vecchi di nuovo disse il dottor Heidegger e vedete l'acqua della giovinezza è sparsa per terra ebbene non me ne lamento se anche la fontana zampillasse alla mia porta non mi chinerei a bagnarvi le labbra no nemmeno se il suo delirio durasse anni invece che istanti è questa la lezione che mi avete dato ma i quattro amici del dottore non avevano appreso quella lezione essi decisero immediatamente di intraprendere un pellegrinaggio nella florida e di abbeverarsi mattina giorno e sera alla fontana della giovinezza e di abbeverarsi la giovinezza e di abbeverarsi Grazie a tutti.